Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA 15 Ultimate Team Torniamo ad occuparci di attaccanti sottovalutati, anche se dire di attaccanti sottovalutati un giocatore con 88 di valutazione è un po' eccessivo Ma è proprio il caso di oggi, stiamo parlando come potete vedere di Robin Van Persie Mi avete scritto in tanti di provare questo attaccante famosissimo dell'Olanda, del Manchester United, comunque uno degli attaccanti più forti al mondo Qualche problemino di infortuni nella sua carriera che probabilmente l'hanno limitato, un qualcosina perché comunque ha saltato parecchie partite durante tutta la sua carriera Vediamo un po' perché può essere considerato sottovalutato questo giocatore, nonostante abbia 88, sicuramente perché lo utilizza poca gente Le statistiche non sono male, velocità, velocità non è sicuramente la sua qualità principale perché ha solo 74 che si traduce poi in un 73 di accelerazione e un 74 di velocità massima Quindi non è di sicuro un attaccante veloce ma è un attaccante che comunque è uno che troviamo in area di rigore Perché è un finalizzatore incredibile, ha 91 addirittura di finalizzazione, ha un work rates medio-basso Quindi è un giocatore che quando avrete bisogno sarà dentro l'area di rigore pronto a ricevere il pallone e segnare E proprio per questo probabilmente poca gente sceglie di utilizzare Van Persic, preferisce magari andare su Aguero perché ha più soldi Starridge che comunque è più veloce perché Van Persic è un giocatore che ha bisogno comunque di una buona squadra dietro Perché non è in grado di farsi tutto il campo, non ha neanche una forza fisica eccellente, ha solo 72 che per un giocatore alto 1,87 è un po' pochino Però davvero il tiro è assurdo, abbiamo detto del 91 di finalizzazione, vi cito anche il 90 di potenza di tiro L'86 di long shot, le 4 stelle piede debole perché ricordiamoci che Van Persic, nonostante sia mancino come magari un Robben Può tirare tranquillamente anche di destro con queste 4 stelle, quindi la difesa dovrà fare particolare attenzione a questi giocatori Perché? Perché non lo può far girare da un lato, perché appena si gira Van Persic può tirare e segnare Può tirare dalla distanza, quindi non può pensare neanche magari di chiudersi in area di rigore perché Van Persic la può risolvere anche da fuori E nonostante l'ottimo tiro non può neanche pensare di contrastarlo alla leggera perché Van Persic ha 80 di agilità, non male Ha 87 di controllo palla e ha un ottimo dribbling, 83 sulla carta, 4 stelle skill, quindi può saltare tranquillamente con le skill degli avversari Quindi capite? È una minaccia costante per le difese avversarie, anche un buon passaggio 82, quindi anche un raddoppio su Van Persic non porta grandi risultati Perché comunque lui viene raddoppiato 82 di passaggio, cosa fa? La scarica per magari un altro attaccante Chemistry style che potreste utilizzare per questo giocatore se volete provarlo, io vi consiglio assolutamente di provarlo Potreste metterli o Falco per aumentare magari un po' la velocità e il fisico o comunque anche un pelino al tiro Però piuttosto che cacciatore almeno qui andiamo a migliorare anche il fisico O tranquillamente il chemistry style di base che secondo me è sufficiente perché tanto Van Persic deve fare una cosa E noi anche andando a migliorarli i suoi punti deboli non riusciamo a farli arrivare ai livelli di un giocatore tipo Aguero Quindi non diventerà mai veloce come Aguero, non avrà mai il fisico di Braimovic Quindi comunque già nel tiro è già ottimo, quindi va benissimo il chemistry style di base Dove utilizzare questo giocatore? Potete utilizzarlo o in un attacco a due punte o in un attacco a una punta Vedete che io non ho fatto tantissimi gol con questo giocatore, mi pare 20 assist in 33 partite Considerate che comunque l'ho utilizzato con giocatori come Diego Costa Sif per le recensioni Io di solito con gli attaccanti cerco di concentrarmi solo su di loro, quindi tanti assist con Van Persic Dicevo comunque l'attacco a due punte, in questo caso vi consiglio di metterli vicino Starridge, molto veloce, magari si porta dietro un paio di giocatori Li salta, poi scarica la palla a Van Persic che deve semplicemente segnare Abbiamo Eriksen che è up, trequartista che è fantastico E poi il solito centrocampo di BPL molto solido Oppure Van Persic può fare anche la punta unica, abbiamo visto un 1,87m Medio-basto si butta sulla linea del fuorigioco E dietro si ritrova con un Di Maria, giocatore assurdo Ramirez che insieme all'argentino si scambierà molto di posizione Perché hanno tutti e due alto-alto di workers, quindi non rimarrete mai scoperti Né davanti né dietro E avete sugli esterni due skiller, quindi potete anche fare le skiller E vi divertite in modo assoluto In conclusione, Van Persic è sottovalutato perché nonostante abbia 88 di valutazione Non lo usa praticamente nessuno Tutti vanno su Starridge, su Aguero, su Diego Costa Ma io vi consiglio assolutamente di provare l'olandese Perché soprattutto? Perché costa tra i 3 e i 13.000 crediti Vi portate a casa un attaccante fantastico Che, finalizzazione assurda 4 stelle ski, 4 stelle più di debole Il workers giusto Dentro l'area di rigore abbiamo detto non perdona Ma può tirare anche da fuori con la potenza di tiro Il long shot, ha un buon dripling Quindi, costa poco È facile da ibridare perché è comunque olandese Quindi potete legarlo con gli olandesi Gioca nel campionato probabilmente che ha più scelta in assoluto La Barclays Premier League Quindi, cosa volete di più? Provate Van Persic Ringrazio chi mi ha detto di provarlo in modo assoluto Adesso probabilmente mi concentrò su Falcao Perché anche lui non lo vedo particolarmente utilizzato in FIFA 15 Ultimate Team Quindi, ditemi se anche voi avete provato l'olandese Noi ci vedremo presto Ciao a tutti